Buon lunedì ragazzi, buon lunedì a tutti, oggi è una settimana, oggi è davvero speciale la settimana, io non mi ricordavo, vi sono ricordato, tra l'altro è così speciale che stiamo ristrutturando Sono dei lavori qua, mi sono ricordato adesso che il video esce, ma l'abbiamo già anticipato, si, un po' ci può elerare, un video molto speciale Vabbè, a parte che secondo me tutti quelli che stanno guardando in questo momento e il prossimamente lo guarderanno il video del mercoledì Perché se guardi il prossimamente, cioè, non puoi non guardare il video, cioè, sei un fan sfegatato Per fare una metafora, diciamo, che potrebbe essere chiara a tutti, ho paura, perché quando vai sulle metafore Allora, ne ho due, ne ho due Quella con la cacca, no? No, una sessuale, no, no, l'altra è come andare al ristorante e prendere solo gli aperitivi e poi non prendere un primo, un secondo Cioè, se guardare solo il prossimamente L'altro era come fare soltanto un preliminare e poi non andare fino alla fine quando entrambi vogliono Perché molti preliminari, voglio dire, sono soddisfacenti Sì, sì Vabbè, prego, 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 Emiliano Preliminari sono soddisfacenti, no? Cioè, vedi anche la faccia No, è una comunicazione di servizio che io non spoilererei Però non è una vera, non è una vera e propria cosa Cioè, nel senso, questo video è un video molto strutturato In cui vi spieghiamo delle rivoluzioni che avranno luogo su questo canale In realtà è che non sappiamo come spiegarvelo senza dire, senza spoilerare il video Senza spare esattamente lo stesso Quindi facciamo una cosa No, io ho un'idea Non diciamo nulla, da adesso in poi non diremo più nulla Guardatelo perché potrebbe cambiare la vita di molti di voi Molti o di alcuni Io farei così Non diciamo assolutamente di cosa si tratta Però diciamo per sicurezza di cosa non si tratta Non chiudiamo il canale Ah, ok Non siamo in crisi Che fai è lo stesso periodo? Cioè, perché esattamente lo stesso periodo Il video è esattamente, è molto simile al video di quando abbiamo iniziato il Patreon Perché poi capirete perché Ma non c'entra nulla Cioè, questa cosa no Non avremo un nuovo programma in tv Non avremo un nuovo posto dove fare prossimamente Per almeno i prossimi due mesi Forse dopo sì Dopo sì ce l'avremo Insomma Diciamolo, è un video in cui vi comunichiamo una bella Per una volta Non è il solito video dello YouTube È un video in cui vi comunichiamo una bella notizia Un nuovo progetto Una cosa nuova Io direi una rivoluzione Sì Quella che i nostri politici non riescono a fare Esatto Noi Perché non riusciamo a farlo anche noi Ma facciamo su YouTube Italia Non lo so Stavo dicendo Noi riusciamo a farlo Però porta sempre sfiga a dire queste cose qua Quindi stiamo zitti E tra l'altro voi popolo di prossimamente Vi svegliamo un segreto Che appunto questo video Nella sua interezza Non è una candid camera Però c'ha delle candid camera Esatto Ma chi lo vedrà mercoledì Sarà fregato all'inizio Perché all'inizio sembra una candid Per attirare la te Voi invece lo saprete Quindi quando vedrete Alessio Ceco Che si avvicina a un Intanto dietro ci mandano un'affanculo alla finestra Quando vedrete scusate Ah perché voglio farvi capire In che condizione lavori ha Quando vedrete Alessio Ceco Che si avvicina a un signore Sappiate che non farà mai una candid Salve buongiorno 200 lire del carrello Un fiorino Eccitazione altissima Beh non parliamo più di questo video qua Perché sennò la gente Quello che capisce Anche prima Diciamo soltanto che È davvero una bella cosa Siamo eccitatissimi Infatti non inquadriamo la parte Inferno del corpo No no Stavo potendo dire una cosa Psicologicamente eccitante Per un motivo Perché dopo 5 anni Dove si Si fa Non dico la stessa cosa Perché comunque c'è stata un'evoluzione Magari Cioè chi ci segue Si è un accorto Che dal primo video A quella di settimana scorsa C'è stata una grande rivoluzione Ma comunque un'evoluzione Per quanto riguarda L'impianto Che magari era già consolidato Da un annetto 2 Diciamo Qua c'è una rivoluzione completa Qualcuno non si stupirà Nel senso Se voi avete imparato In questi anni a conoscerci Sapete che a noi Piace creare Inventare cose nuove Andare sempre avanti Cercare di evolversi Abbiamo inventato la cura Contro il diabete Ma quando? No abbiamo inventato Gli esperimenti sociali Cioè li abbiamo copiati Dall'America Però comunque in Italia Cioè anche il telefono Cioè la diatriba Marconi Con chi è l'altro Non mi viene in mente Che non è italiano Dai Non bella Macca miseria Un momento Guardiamoci Perché se no Qua un taglio Isa Taglia e poi magicamente Noi taglia Quando io dico 3 1, 2, 3 E ora lo sapremo Dai Meucci forse Meucci si Forse l'altro Non era Ah no Marco non c'entrava Non c'entrava nulla Erano Meucci e Bella Quindi Bella Vabbè insomma Fatti sta È l'evoluzione naturale Secondo me qualcuno di voi Se si sforza Con questa ambulanza Può anche capire Cosa annunceremo mercoledì È un'evoluzione Del nostro canale Secondo me è così 1 su 1 Siamo diventati dei pokemon 3.000 Almeno a 20.000 lo guarderanno No dico 1 su 1 Quindi su 20.000 Ah Ah 1 su 1 Ce la fa Bene C'è un cantiere qua ragazzi Siamo un po' incasinati Perché la sala dove facciamo I prossimi ambienti E quella dall'altro È occupata Quindi Ci siamo arrangiti Ma fa niente Ma non parliamo più Di questo video qua Perché se no me Lo bruciamo Perde di magia E perde di Come si chiama Di effetto sorpresa Ecco cosa ci vediamo Lascia anche le urla Dei muratori Cosa parliamo Io ho un argomento Prima degli argomenti Quelli Ho un argomento sempre Sul nostro Prego passi pure Non si preoccupi Intanto ora parliamo Di mattarella Probabilmente Quindi Prima di passare Argomenti Un'altra cosa sul canale Ragazzi Vorreste voi Cioè io è il momento Di dirlo secondo me Stiamo progettando Oltre al grande progetto Rivoluzionario Che c'è mercoledì Di diciamo Costituire una location Per il prossimamente Ne parlo adesso Perché mi sembra Un momento più adatto Visto che dall'inizio Di questo prossimamente Hanno tirato su Un edificio qua al fianco Sono passate 5 persone Il bello di fare qui È che ci sono anche Gli ospiti speciali Benvenuto a Jaser Nel nostro Prima di inizio Promuoviti Dai Mi chiederete chi è Ma poco importa Eh ma Non funziona No Sembra che le muo Allora Jaser La mia cosa preferita di Jaser A parte la sua Bontà d'animo Il fatto che sia un bellissimo ragazzo Il suo profilo di Instagram Che è davvero Un profilo davvero interessante Fa foto mai banali Sempre con fotomontaggi Effetti Davvero fatti bene Ma la cosa bella Mettiamo in descrizione Il profilo di Jaser La cosa bella È come guardare un quadro Come guardare un quadro Fatto male Ma poi ti dicono Questo quadro È stato dipinto Da un elefante Perché Jaser Ha fatto i fotomontaggi Sul photoshop Non sapendo usare foto Non sa usare le maschere Non sa usare i livelli Ma vengono Ha imparato a usare le maschere Sì Eh ma insegnatelo Ha imparato Ragazzi Ha fatto tipo 6 mesi Dove Cioè Vabbè Allora Stai a scalare tutti i retroscena Lui le foto le fa anche Guardando i tutorial su YouTube Però cioè Non è che dobbiamo dire Ma sta solo Ma sta solo fare una cosa Prima Usare la gomma Sì Io faccio tutto con la gomma E facevi a fare Puoi fotomontaggi senza livelli Sei un genio No I livelli E la gomma E io perché li fanno automatici Ma quando inserisci un pezzo Vabbè Comunque Comunque andate a vedere Ha anche un canale YouTube Ma cominciamo da Instagram Poi la prossima volta che passi Facciamo YouTube Grazie No comunque Veramente Stiamo prendendo uno spazio L'avevamo già preso quando facevamo Le nostre famose dirette Che Me le abbiamo fatte per due volte Non era sostenibile Però prenderemo uno spazio E vogliamo Rendere prossimamente Un format più interessante In cui parliamo In modo anche un po' più strutturato Di vari argomenti Oltre che del video Vi piacerebbe Che momenti vorreste Vedere inseriti Non lo so Tipo le telefonate Ti ricordi che facevamo Sì sì Le facevamo Ma in realtà Su un secondo canale Abbiamo fatto un sacco di cose Belle Che ora No Che ora sono la base Di YouTube Italia Facci caso Anche quello abbiamo invitato Aspetta Facciamo passare St'ambulanza Cioè oggi veramente Che puoi fare Questa davvero vicina Qualcuno qua Che Questa mi sembra Un'ambulanza 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 Dicevi che noi abbiamo Fatto un sacco di cose Che poi sono diventate La base Di YouTube Italia Fatteci caso Nel 2014 Ma È vero Nel 2014 Ti tingiamo le barbe Se facciamo una roba E' vero Tutti Si sono vinti i capelli Tutti hanno fatto Questa roba qui Eh ma tu pensi Io sono umile Intervista doppia Bruttissima La nostra Proprio orribile Fatta perché Non sovamo cosa fare C'è stato un periodo Che c'erano solo Sì ma noi l'abbiamo fatta Due o tre anni Prima di quando Le hanno fatte Adesso C'è da dire Che l'intervista doppia Noi l'abbiamo Copiata Non è che ce la siamo Inventate No però Se andate sul secondo canale Nel nostro canale È veramente Anzi se volete copiare Dei video Nel nostro canale Non lo avete inventiva Usate il nostro secondo canale Ci sono un sacco di cose Sto passando Ma guarda Vabbè per la sfida Quella del cibo Tutte le sfide del cibo Comunque poi hanno lanciato Dei filoni Molto interessanti Voglio dire Però ecco Diciamo che questo Prossimamente che abbiamo in mente Potrebbe racchiudere In versione short Alcuni dei format Che facevamo sul secondo canale Per esempio Quello delle telefonate a casa Per esempio Quello dell'intervista doppia Se ci manderete Delle domande interessanti Volevo fare un piccolo Tipo la freestyle challenge L'hanno copiata L'ho visto Un po' di persone Beh quella già Prima di noi L'aveva fatta proprio Jaser Che ha passato prima La freestyle challenge L'avevo vista da lui Avevo detto Jaser La faremo anche noi Noi sono degli abili copiatori Sì Perché noi non copiamo Noi prendiamo spunto Miglioriamo Sto cercando di Altre cose che abbiamo inventato C'è un video Dove siamo svenuti A fare il video del sangue Quello è vero Tra l'altro mi chiedo Non lo so Ma capo come si collega Vabbè Tra l'altro Comunicazione Mi sono fatto malissimo Al braccio Probabilmente dovrò fare Un pallivo del sangue Sicuramente Se non un'operazione Vabbè a quel punto Documentano Cioè voglio dire Quindi sverro Tante volte Però devi perdere un video Make up Per farti le storie Perché se poi svieni Ti cade il telefono No stavo cercando Altri format Non ce ne sono altri Vabbè a prescindere Siccome a molti Voi manca il secondo canale E a noi manca Fare quei video Io questo prossimamente Lo immagino un po' Come un podcast Cioè non so se tu Sì sì Cioè nel senso Un bel microfono Su una scrivania Un bel set indietro E tipo Avete presente Lo youtuber americano A cui mi mandate 60.000 directs su Instagram E dite che gli assomiglio Ah è vero Gli assomigliano Il format che fanno loro Però in piccolo Solo una volta a settimana Sì sì Good mystical morning Si chiama Good mystical morning Credo si chiama Potrebbe essere una roba Dove c'è un filone Copiamo anche loro Cioè nel senso Dove c'è un filone Ovvero Questo lunedì si parla Di Un argomento di attualità Ma veramente Importante Che cacchio ne so Ma attualità Non per forza Ciccio si No no Ciccio si sposa Si sposa con Ciccia Tipo Gabbo Si è sposato con Silvia Auguri ragazzi Avremmo fatto Una trasmissione Però magari Lo chiamavamo Cioè capito Però che so Magari un personaggio famoso Si sposa con un altro personaggio Altrettanto famoso E che dà Spunti a vari argomenti E da lì quindi Parte tutto questo video qua Ed sarà figo Cioè non ancora scrivo Non è solo Da settembre ragazzi Come ogni youtuber L'ho detto Vi siamo obbligati Come ogni youtuber Da settembre Grandi rivoluzioni Esatto No a dire un'altra cosa Non mi ricordo più Beh bisogna Di matti vorrei dire Forse Allora io Apriamo un piccolo L'Italia si è divisa in due Io proprio Ti hai guardato Ho guardato il nome Del nuovo design Cottarelli Avevo imparato Conte Adesso E tra l'altro Aveva già lavorato Nel governo Letta Faceva Cottarelli Per modo di spendere In più Esatto Mister forbici Lo chiamavano Esatto Mister forbici E no Mettarelli Ho letto dei commenti Cioè Facebook è spaccato in due Sì Cioè in due Diciamo non in partie Con una parte un pochino più rossa Una parte un pochino più piccola Lo stanno veramente massacrando C'è un raggio gigantesco Mi ha distratto Ma è vero Ma sai che io Non massacrando distruggendo Insultando Anche quelli che magari Io credevo in Mattarella Come tutore C'è da dire che Mattarella Non ha fatto nient'altro Che rispettare la Costituzione Solo che effettivamente Anche io Non riesco a prendere Una posizione Chiara e decisa Cioè nel senso Non mi sento di dire È stupido Chi se la prende con Mattarella O è stupido Chi se la prende Con chi se la prende Con Mattarella Perché da una parte Effettivamente C'è la Costituzione E quindi le regole Che regolano Lo svolgimento Della vita Della legge in Italia Però dall'altra parte Effettivamente Questi due partiti Piaccia o meno A me non piace tantissimo Però hanno preso Insieme quasi il 60% Cioè hanno preso Tanti voti E non sono riusciti Adesso Cioè loro Avevano espresso un governo E in un certo senso Gli è stato impedito Quindi effettivamente Un minimo cortocircuito Nella democrazia c'è Cioè non si può dire di no Perché se loro volevano Quel tale ministro E' vero che Era nei suoi poteri farlo Però anche Poi il mattino dopo Effettivamente Lui propone un nome Di un tecnico Che Mr. Spending Review C'è un po' uno scontro C'è uno scontro istituzionale Perché in questo momento L'hanno proposto Savona Si Come ministro dell'economia Ma Mattarella Ha avuto un po' da ridire In quanto lui Cioè Aveva paura che si usciva Dalle euro in sostanza Giustamente E Il punto che Savona Aveva espresso in passato Opposizioni anti-euro Proprio Esatto Quindi si è un po' Mattarella ha detto No io Il mandato Poi dice che Non era soltanto Quella questione lì Trovo Non lo sappiamo Ma io ho una risposta Solo che Questa risposta Non riesco a capire Se sia vera Nel senso Te la dico E mi dice il tuo parere Di Maio e Salvini Si Hanno fatto apposta Nel senso Perché insistere su Savona Mattarella gli aveva anche detto Mettiamo Giorgetti All'economia Che era un leghista Il numero due di Salvini Loro insistendo su Savona Cosa hanno ottenuto Il fatto di non fare il governo Che effettivamente Era un governo Che stava stretto ad entrambi Un premier terzo In questo modo Loro cosa ottengono Vanno ad elezioni Dando la colpa a Mattarella E quindi ad elezioni Fanno il carico di voti Ancora di più Perché le persone che li votano Sono il popolo appunto Della protesta Quindi del malcontento Quindi poter andare ad elezioni Dicendo Stiamo ad andare ad elezioni Perché il presidente Della repubblica Ci ha impedito di mettere Un ministro Perché è guidato Dai poteri forti Della Europa Del Rothschild E gli alieni Così prenderanno Molti più voti Però non riesco a capire Se sono così intelligenti Politicamente Ad aver fatto questo ragionamento Se gli è andata di culo Io non lo so A questo punto Spero siano così brillanti Politicamente Alla House of Cards Quasi Come cosa Eh vabbè ma non è che così Penso Eh sì Stanno iniziando Il palazzo Prego prego Ha chiamato lei Mattarella Ha detto No no Fai saltare tutto Via Niente ragazzi Basta parlare di politica Perché tanto Molti di voi Non ne frega Non frega nulla Quindi Siamo già anche 15 minuti Sì Promettiamo che Il prossimamente di settembre Non si parlerà Minimamente di politica Perché non è un argomento Magari dei pezzetti Allora Se a voi interessa Veramente la politica Volete sentire parlare Qualcuno magari Che analizza meglio La situazione Che Andate sul canale Di Breaking Italy Vabbè Dove ogni Ogni Alle 18 Penso Tutti i giorni Alle 18 Io li guardo la sera Però li guardo Più di andare a letto Beh è bello Perché chiudi gli atti Mi sembra anche di essere In Sardegna Al mare In Uraghe Cioè ci sta sempre Grande sciaccia No però fa delle belle analisi Nonostante tanti Lo criticano Tanti In pochi lo criticano Esatto Se parla di politica C'è sempre qualcuno A cui Cioè che lo pensa Diversamente da noi Ciao ragazzi Sono passati esattamente 15 Oh mercoledì Andiamo la rivoluzione Deciò Si è persa un po' Andare a fare una cosa Importantissima ragazzi Andare a aprire le mie cartili Tra la comune La mincarda Grazie a tutti